allora com'è andata spero bene è stata una maratona una vera maratona fisica e psicologica veramente estremo in alcuni momenti bisogna mantenere la concentrazione la calma andare avanti non pensare troppo io sono uno che pensa molto mi usa staccare non pensare stare concentrati avanti c'è qualcosa che ti ha sorpreso di questo corso tutto è stato tutto una sorpresa l'intensità la preparazione di ilia è qualcosa di incredibile come ti fa vedere le tecniche come insegna le tecniche tutto è stata una sorpresa la durata è stata una sorpresa perché comunque che due transi di 12 giorni sono veramente impegnative però sono contento veramente contento se c'è una cosa tra le varie che ti sei portato a casa che volessi evidenziare diciamo com'è la migliore quella per cui avresti messo la firma ad occhi chiusi quale sarebbe una è come l'insegnante che di sicuro è un livello incredibile questo è di sicuro poi tutto il training tutto quanto incredibile è stata un'esperienza incredibile ok grazie mille stefano